Bello perché! La Diocesi di Torino presenta il Mese della Scuola e dell'Università. Appuntamenti, incontri, dibattiti, teatro, arte, moda, laboratori, testimonianze, preghiera. Un mese per riflettere e vivere quanto ci circonda a partire dalla scuola e dall'Università, dal 1 al 31 ottobre 2014. Informazioni su www.diocesi.torino.it e www.universitari.to.it Bello perché! Conoscere la bellezza, la bellezza del conoscere!